Sarà una corsa al 90% tutta in rosa, quella del 14-15 maggio a Belgirate, 475 abitanti, per l'elezione del nuovo primo cittadino che andrà a sostituire il commissario dopo la sfiducia all'ex sindaco Walter Palazzetti. La prima a scendere in campo è stata Giovanna Balsamo, 51 anni, già vice sindaco con la giunta Palazzetti, residente in paese sposata con figli e insegnante di catechismo, molto impegnata nel volontariato. Sarebbe la guida di una lista con qualche elemento della precedente maggioranza, come lo stesso Palazzetti e Rene Cabbiati. Dice la Balsamo, ho risposto delle proposte che mi sono state fatte. In paese mi conoscono tutti per le mie attività. Il mio attaccamento a Belgirate e dei suoi abitanti mi ha spronato a rimettermi in gioco al servizio della comunità. Qualche giorno dopo la conferma di una new entry, quella di Gabriella Cominazzini, 65 anni, dirigente scolastico del liceo Galilei di Burgomanero, di Gozzano e a Rebola di Stresa. Abita a Solcio di Lesa. Ha curato il passaggio degli alunni dell'asilo Connelli di Belgirate dall'istituto comprensivo del Vergante al prossimo Fugazzano Rebola. Dice, ho avuto modo di confrontarmi con le famiglie per mantenere la materna a Belgirate, una realtà piccola ma di alta qualità. Basterebbero dieci bimbi per riaprire. Nella sua lista ci potrebbe essere qualche elemento della precedente opposizione. A guidare la terza lista, ma non come candidato a sindaco, è Flavia Filippi, residente a Lesa, già sindaco di Belgirate dal 2011 al 2016 e poi leader dell'opposizione. Afferma, stiamo lavorando per completare la lista? Tra qualche giorno renderemo noto il candidato a sindaco. Conosco bene l'attività amministrativa. Il problema di Belgirate è il recupero di un forte credito da un'azienda del settore turistico. Si deve combattere, inoltre, l'isolamento in un paese in cui è sprofondato.